La Lamorgese rimane al suo posto, se l'aspettava lei ovviamente o no? Mi aspettavo che la Lamorgese rimanesse al suo posto, non mi aspettavo che la Lamorgese facesse una difesa così ridicola del suo pessimo operato. Le parole della Lamorgese ieri in aula per giustificare quello che è accaduto a Viterbo come altri casi sono francamente, mi hanno lasciato basita. La Lamorgese ci dice che loro hanno perquisito questi camper che andavano a rape e non hanno trovato niente di male. La domanda alla quale il ministro Lamorgese non risponde è perché quando poi questa gente si è messa a ballare, ammassata, a spacciare droga, a stuprare gente, il governo non si sia deciso a intervenire, forse perché la Lamorgese era troppo attenta a multare chi scende in piazza per contestare i provvedimenti del governo.